eccoci al museo caproni guardate vi faccio una breve panoramica dall'alto che sinceramente merita tutti gli eri esposti è quello la sotto e quello che abbiamo visto prima il famoso si hai 76 scusate 79 perdon guardate che bello dall'alto vedere questi eri d'epoca alcuni sono originali come quello che abbiamo visto all'inizio nostro tour quello la sotto in fondo utilizzato da annunzio durante il volo su vienna e alcuni sono per esempio come quello che vi sto inquadrando ora sono solamente delle parti d'aeroplano che sono sopravvissute alla guerra perché comunque sia molto raro trovare degli esemplari in buono stato di questi eri d'epoca al giorno d'oggi